Ciao bambini! Vi andrebbe di fare un gioco di matematica con me? Vi anticipo che richiede di aver ripassato bene le tabelline, per cui se non le sapete bene sapete cosa vi consiglio di fare? Di fermare il video e di ripassarle un attimo. In verità però sono certa che bravi come siete ve li ricorderete proprio tutte. Allora, come funziona il gioco? Dobbiamo coprire questi cerchi colorati con i bicchierini che riportano il risultato corretto. Questa è una prova, la facciamo insieme. Siete pronti? Allora, 3 per 8? 24. 7 per 7? 49. 5 per 10? 50. 9 per 9? Scusate, 3 per 3? 9. 7 per 9? 63. 2 per 9? 18. 6 per 8? 48. Era l'ultimo che rimaneva e quindi ci siamo. Adesso cambio la scheda di base. Sarà un po' più difficile perché avrà più cerchi e quindi più bicchierini da abbinare. Voi dovrete cercare di battere la maestra, cioè di abbinare il bicchierino prima che io riesca a coprire il cerchio con la tabellina. Ecco bimbi, ho cambiato scheda. Siete pronti? 5 per 5? 25. 3 per 7? Bravi, 21. 4 per 9? 36. 4 per 8? 32. 2 per 7? 14. 7 per 8? 56. 5 per 9? Oh ma siete velocissimi, 45. 45. 4 per 7? 28. 2 per 8? 16. 8 per 8? Questo non lo sapete, andiamo per esclusione. Quale potrà essere? 64. 6 per 9? 54. 6 per 7? 42. Molto molto bene. Adesso facciamo una cosa inversa. Cioè io vi preparerò coperto e voi dovrete dirmi sotto che tabellina c'è. Ok? Ecco, ne ho lasciati alcuni coperti. Indoviniamo cosa c'è sotto. Aspettate che ci entriamo un po'. Ok. Allora, 21. Qual è la tabellina che dà come risultato 21? 3 per 7 o 7 per 3? Esatto. 64. 64. Questa ancora non l'abbiamo studiata, ma tra poco ci arriviamo è 8 per 8? Esatto. 54. Come posso ottenere il 54? Quale tabellina? 6 per 9 oppure 9 per 6? Bravi. 42? 6 per 7 o 7 per 6? Esatto. 45. 45? 5 per 9 o 9 per 5? 56? Ah, questa è bella difficile. 56 è? Bravissimi! 7 per 8 o 8 per 7? 14? Cosa ci sarà nascosto sotto qui? Molto bene. O il 2 per 7 o il 7 per 2? Bravissimi! 15? Spero vi sia piaciuto. Alla prossima!